di origine italo-americana, studiò danza Broadway con Bob Fosse e Jack Cole. Poi arrivò in Europa con il suo tour in Francia con Roland Petit, a Parigi allestì le coreografie di appuntamento mancato di François Sagan, e venne notato da alcuni dirigenti della sede Rai di Torino, per cui venne scritturato in Italia nel 1959 per lo show Crociera d'Estate. Lo stesso anno curò le coreografie di Dei a scala per Canzonissima. Nel 1961 portò in Italia le gemelle Kessler col programma Giardino d'Inverno, e nello stesso anno lavorò nuovamente con loro in Studio 1. Negli anni 60 partecipò con Totò come comparso al film Totò di Notte N. 1 e da film musicali. All'inizio degli anni 70 fece conoscere Minnie e Minoprio e fu coreografo per i programmi Ai, Visto Mai, con Lola Falana, Formula 2, Chi, condotto da Pippo Baudo. Nel 1978 ritrovò Delia a scala e con lei condusse che combinazione. Mentre l'anno successivo presentò il Varietà così per caso. Insieme a Cecilia Buonocore e con la partecipazione di Elton John quale ospite fisso. Negli anni 80 fu protagonista di Pronto chi gioca. Il programma di Gianni Boncompagni. Con Giancarlo Magali e Enrica Bonaccorti su Rai 1. Pippo Baudo l'aveva avuto come ospite nel 1992 a partita doppia. Nel 1985 ha condotto Quo Vadiz. Con Maurizio Nichetti e Sidney Rome. Con i disegni di Bruno Bozzetto. Partecipò l'anno seguente alle trasmissioni di Rai 1 Vincerai e Regali di Natale su testi di Marco Di Tillo. Ha partecipato al Festival di Sanremo 1999 come coreografo ed insegnante di danza della co-conduttrice Laetizia Casta. Con la quale improvvisò diversi siparietti comici durante le serate in diretta. Nello stesso 1999 ha preso parte al film di Leonardo Pieraccioni il pesce innamorato nel ruolo di Pacini.